con le mani faccia ciao con le spalle fai di tac e le lache e le tic tac e le lache e le tic tac e fai ci a ciao e verso e giù e fai ci a ciao con le mani faccia ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.